Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Il giorno dopo il terremoto, effettuati i controlli in tutta la provincia A Fano rimangono chiuse le chiese di Santa Maria Nuova e San Cesario a Carrara mentre il municipio riaprirà mercoledì Attenzione alla truffa dei falsi tecnici, chiedono di entrare in casa per controllare i danni del terremoto Arrestato dalla polizia di Fano lo spacciatore di Halloween Comune e fondazione annunciano una nuova piscina all'ampliamento della casa di riposo Don Tonucci e 80 nuovi appartamenti a canone sociale Presentata la Camera di Commercio, la quarantesima edizione del cartoceto DOP il Festival Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Questa sera il nostro telegiornale si apre con il terremoto che ieri ha colpito nuovamente il centro Italia Il sisma ha provocato danni anche nella nostra provincia dove sono state chiuse le scuole, alcune chiese e diversi edifici pubblici per effettuare degli accertamenti E a distanza di un giorno dal terremoto vediamo qual è la situazione nel nostro territorio Paura, crolli e feriti Non c'è tregua per le popolazioni di Marche, Umbria e Lazio risvegliate ieri mattina da una scossa di magnitudo 6.5 la più forte registrata dal 1980 A tremare alle 7.41 anche la provincia di Pesero Urbino che non è rimasta in colume da sisma La più colpita è stata Pergola dove alcune case sono state dichiarate inagibili e fatte sgomberare A Fano invece sono state transennate tre chiese antiche della città La Basilica di San Paterniano, la Chiesa Santa Maria Nuova che ha riportato la caduta di Calcinacci è quella della Madonna del Ponte all'ingresso sud della città dove si è aperta una crepa sul campanile Stessa sorte per le scuole, Palazzo Baccarini, le biblioteche, Casa Cecchi, Casa Archilei e il Teatro della Fortuna chiusi in via precauzionale Oggi dunque è stata una giornata di sopralluoghi negli edifici pubblici e privati Sì, abbiamo fatto anche questa volta nove squadre abbiamo dato priorità ai cimiteri visto che la commemorazione dei defunti è in corso praticamente alle scuole e poi comunque sia agli edifici pubblici in generale quindi biblioteche eccetera Ovviamente la cosa che ci preoccupava di più è la sede del comunale per cui le verifiche più dettagliate sono state fatte e ci preoccupa un po' anche Santa Maria Nuova che credo sia l'unica chiesa che rimarrà chiusa anche i prossimi giorni mentre il campanile della chiesa di Madonna del Ponte con annesso ovviamente il campanile che fra l'altro è l'unica chiesa di proprietà comunale quella è stata verificata sia ieri mattina con i vigili del fuoco e con i tecnici del comune e abbiamo rilevato che comunque i lavori che sono stati fatti negli anni perché è un campanile 400 ma è un campanile rimesso a posto anche perché aveva avuto delle lesioni in passato e ha un'anima tra virgolette se mi si permette il termine di cemento armato quindi sicura ieri sera sono intervenuti con i mezzi vigili del fuoco insieme ovviamente ai nostri tecnici per rimuovere quelle parti che potevano essere o dare dubbio di pericolo di caduta sulla strada e sulla chiesa addirittura quindi la chiesa già ieri pomeriggio era aperta e non ha avuto problemi come San Paterniano che credo abbia fatto le funzioni del pomeriggio tranquillamente a seguito di segnalazioni pervenute dai vigili del fuoco che da ieri hanno raddoppiato i turni il sindaco Seri ha emesso un'ordinanza in cui dispone l'evacuazione del reparto di Otorino dell'ospedale Santa Croce in attesa di ulteriori verifiche strutturali da parte di tecnici dell'azienda ospedaliera Marche Nord nonché la chiusura della chiesa di San Cesario e dell'agenzia numero 2 della Carifano S.P.A. in via Cavour questo fino a quando le autorità religiose e l'istituto di credito non ripristineranno le condizioni di sicurezza al Teatro della Fortuna invece non sono stati riscontrati i problemi mentre il municipio che era stato chiuso per accertamenti riaprirà mercoledì al momento no stanno proseguendo le verifiche i controlli fortunatamente con questo periodo in cui le scuole sono chiuse lo possiamo fare con più serenità ma a tutt'oggi non si è riscontrato nessun problema come del resto in quasi tutta la città quindi invito a tutti a rimanere sereni e tranquilli e le scuole riprenderanno regolarmente con l'inizio previsto per giovedì le attività didattiche potranno riprendere regolarmente come da calendario anche a Senigallia nuovi sopralluoghi invece sono stati eseguiti da parte della provincia di Pesero Urbino su scuole superiori e strade del territorio provinciale dopo un incontro del direttore generale Marco Domenicucci con i responsabili e i tecnici dei settori edilizia scolastica e viabilità quanto alle strade compresi i ponti per tutta la giornata è continuato il monitoraggio in particolare nelle zone montane dove può essere più frequente il pericolo di caduta massi nelle scuole invece i controlli non hanno fatto registrare particolari criticità all'ITIS Mattei di Urbino a causa del distacco di parti di Intonaco sono stati chiuse quattro aule che verranno sistemate già da mercoledì mattina nella stessa giornata prima dell'inizio delle lezioni verranno controllate l'istituto Montefeltro di Sasso Corvaro e l'agrario Cecchi di Pesaro e continuiamo a parlare del terremoto perché sta girando in rete un messaggio che mette in guardia i cittadini dai falsi tecnici comunali e provinciali infatti con la scusa di controllare eventuali danni provocati dal sisma queste persone mostrerebbero dei tesserini falsi con l'intenzione invece di entrare nelle case per rubare i tecnici del comune di Pesaro precisa l'assessore Belloni non vanno nelle case a controllare se ci sono crepe dovute al terremoto per questo l'assessore invita i cittadini soprattutto gli anziani a stare in allerta perché si tratta di malviventi pronti a colpire il comune di Fano inoltre precisa che non è stato disposto nessun sopralluogo di tecnici comunali nelle abitazioni private chi avesse testimonianze di queste truffe conclude una nota avvisi le forze dell'ordine ed ecco in caso di crepe provocate dal terremoto a chi bisogna rivolgersi? noi questa mattina lo abbiamo chiesto a un tecnico del comune di Fano sentite partiamo dal problema dal fatto che noi non siamo in questo momento in un territorio soggetto all'emergenza cioè decretata per cui in questo momento qua ci possiamo muovere soltanto con gli strumenti ordinari per cui i cittadini a parte che crepa strutturale è un po' pesante da definire strutturale quando il muro è lesionato la maggior parte delle crepe generalmente che si intravedono adesso generalmente sono degli intonici poi se uno ha un sentore che quella che vede lui è una crepa perché magari passa da parte a parte del muro una crepa che può o ha timore che di compromesso bisogna che in qualche maniera in maniera autonoma diciamo o tramite qualche professionista o se non ha nessuno proprio in estrema razio chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per verificare l'agibilità della casa e quindi di conseguenza anche la gravità della situazione la gravità della situazione questo adesso è da ponderare un pochino perché in questo momento qua i vigili del fuoco sicuramente saranno sovraccarichi di chiamate per cui se uno riesce a capire che la crepa è soltanto il movimento che c'è stato del muro che ha rovinato l'intorno che è basta e via di seguito non è se però dopo il dubbio ce l'ha in questo momento comunque non sono previste le verifiche che normalmente vengono attivate nelle zone emergenziali proprio per stabilire se la casa è agibile o abitabile o non è abitabile e via di seguito le classificano in base alla gravità del danno fino ad arrivare a dire che questa è da demolire e rifarla da noi ancora le squadre dei verificatori sono tutte impegnate nelle zone del cratere sono tutte impegnate e vi ricordiamo che è sempre operativo il conto corrente postale per la raccolta dei fondi a favore delle popolazioni marchigiane terremotate aperto dalla regione Marche in occasione del sisma del 26 agosto resta disponibile anche per le donazioni dell'emergenza in corso e adesso continuiamo con la cronaca perché la polizia di Fanno ha arrestato un senegalese di 20 anni che spacciava marijuana e ragazzini dai 12 ai 15 anni in vista della festa di Halloween durante il normale servizio di perlustramento da parte della squadra volante del commissariato di Fanno i due operatori della volante si sono imbattuti in questo gruppo di ragazzini molto sospetto che si intratteneva all'interno del parco bracci a fianco all'istituto commerciale quindi la volante è intervenuta immediatamente hanno subito individuato la persona sospetta che spiccava proprio perché era più adulto rispetto alla moltitudine di adolescenti i adolescenti nel frattempo si sono dispersi quindi la volante è andata subito sul sospetto una persona di colore seppur molto giovane è stato bloccato ha tentato comunque di fuggire ha reagito molto violentamente nei confronti di uno dei due operatori poi insieme comunque sono riusciti a trattenerlo a bloccarlo e ad ammalettarlo si era nel frattempo disfatto di un involucro contenente circa 20 grammi di marijuana aveva nelle sue tasche anche 55 euro frutto dello spaccio tutti i tagli piccoli da 5 euro quindi considerando insomma l'età giovanissima delle persone che stavano acquistando la droga da questo soggetto anche il curriculum diciamo criminale di questo spacciatore riteniamo di aver di aver liberato dalle strade un pericolo nei confronti degli adolescenti della nostra città considerando anche l'orario che erano le 4 di pomeriggio del sabato questi adolescenti erano lì proprio per rifornirsi della droga per poi utilizzarla e consumarla proprio per il giorno di Halloween cioè per la giornata di oggi si chiede anche un aiuto da parte dei genitori nel cercare di percepire quelli che sono gli indicatori principali che possono far intendere un consumo di droga da parte dei propri figli soprattutto nell'età adolescenziale ecco è sicuramente prodromico all'utilizzo delle droghe il fumo delle sigarette del tabacco normale proprio perché a 13-14 anni già con 5 euro la somma questa cifra è sufficiente per acquistare alcuni pochissimi frammenti di marijuana per poi inserirli all'interno proprio del tabacco e quindi con l'utilizzo di molto tabacco e pochissima marijuana anche con pochi soldi si riesce a fabbricare uno spinello e a consumarlo considerando l'età di 12-13-14 anni insomma i danni sono rilevantissimi quindi basta capire che se c'è un utilizzo di semplici sigarette già all'età di 12-13 anni ecco questo è un indicatore veramente determinante per poter capire che c'è qualcosa che non va che va assolutamente approfondito perché il passaggio all'utilizzo della marijuana soprattutto insieme al tabacco è rapidissimo è velocissimo quindi ripeto una volta capito questo si può procedere immediatamente con delle verifiche anche anche indirizzando noi come polizia di stato e adesso cambiamo argomento in soli due anni pensate alla città di Fano potrebbe avere una nuova piscina appartamenti a canone sociale e una nuova residenza sanitaria assistenziale lo hanno annunciato questa mattina al sindaco di Fano Massimo Seri e il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Fano Fabio Tombari tanto discussa e richiesta ma mai realizzata una nuova piscina potrebbe essere realizzata nella città della fortuna grazie ad un'importante operazione finanziaria che vede coinvolte la fondazione Carifano e l'amministrazione comunale il progetto definito ambizioso prevede anche una residenza sanitaria assistenziale e 80 appartamenti di edilizia convenzionata tutto questo potrebbe venire alla luce in soli due anni grazie al fondo immobiliare Cives che potrebbe acquistare la casa di riposo Don Paolo Tunucci inaugurata nella primavera del 2009 questo centro verrebbe venduto dalla fondazione Carifano a condizione che venga ampliato portando i posti letto da 50 a 110 e gestito con gli stessi criteri sociali utilizzati fino ad oggi con il ricavato della vendita poi sarà possibile realizzare un centro natatorio in via Mattei di fronte all'aeroporto nell'area scelta di proprietà comunale verranno costruite tre vasche una da 25 metri con 8 corsie per il nuoto libero una per la riabilitazione ed un'altra per i bambini la struttura che sorgerebbe su una superficie di 30.000 metri quadrati un domani potrebbe essere anche ampliata con ulteriori parcheggi e una vasca da 50 metri per l'occupazione nel settore dell'edilizia che è fortemente in crisi 25 milioni di opere edilizie sono calcolabili grosso modo come due anni di lavoro per 200 persone dicevo altrettutto che potrebbe dare delle risposte definitiva alla città di Fano perché in alcune cose è carente è carente Fano è l'unica città che non ha un RSA una residenza assistita e quindi ha veramente bisogno i nostri le nostre anziane che hanno bisogno di RSA sono a Fossombrone sono a Mondavio sono a Qualagna sono in giro dappertutto Fano non ce l'ha purtroppo questa è l'occasione buona per averla inoltre come sottolineato da Tombari in conferenza stampa oltre ai posti di lavoro che si verrebbero a creare nel settore dell'edilizia la nuova struttura la Don Paolo Tonucci darebbe un impiego a 100 persone mentre il centro natatorio ad altre 15 o 20 persone al tempo stesso poi si porterà avanti un'altra operazione in via Cena a Gimarra di Fano dove il fondo Cives intende realizzare 80 appartamenti a cannone sociale in questo caso però c'è un problema da risolvere con Banca Marche perché l'area è di proprietà di un fondo immobiliare finanziato dallo stesso istituto di credito è un progetto ambizioso una bella risposta che noi cerchiamo di dare stiamo andando avanti ovviamente questo avviene con il coinvolgimento di un fondo sociale che ha finanziamenti di casse depositi e prestiti quindi si parliamo sempre di pubblico per cui c'è ottimismo stiamo lavorando insieme alla fondazione e devo ringraziare la fondazione per aver sposato questo percorso e noi pensiamo nel giro di pochi mesi di poter definire il tutto ovviamente è sempre che tutti questi elementi si possano ricongiungere e ci consentano di portare a termine l'operazione e per la ricorrenza di tutti i santi domani al cimitero urbano a Fano verranno celebrate tre sante messe alle 9 e le 10 alle ore 11 mentre alle 15 e 30 sarà Monsignor Giuseppe Tintori vicario generale ad ufficiare una santa messa per tutti i defunti sempre alle 15 e 30 verrà celebrata una messa al cimitero dell'Ulivo invece mercoledì 2 novembre alle ore 10 verrà depositata una corona dall'oro al monumento alla resistenza in piazzale Malatesta e al monumento ai caduti in viale Buozzi poi alle 10 e 30 all'interno del cimitero urbano in via della giustizia verrà celebrata una santa messa prestituta dal vescovo Armando Trasarti al cimitero dell'Ulivo invece verrà celebrata alle 15 e 30 e adesso rimaniamo in tema di cimiteri perché Udc e Progetto Fano hanno presentato un'interrogazione per mettere in evidenza il fatto che durante le festività di ogni santi il comune di Fano impedisca ai cittadini di pregare davanti le tombe nel cimitero di Ferretto infatti si legge in una nota dei consiglieri lo spettacolo che si presenta è allucinante con tombe coperte da teli e impalcature edili che impediscono l'accesso e la visibilità alle tombe anche semplicemente per lasciare dei fiori per questi motivi Santorelli Magrini e Del Vecchio chiedono al sindaco Seri di intervenire per risolvere la situazione e di spiegare i motivi di questi disservizi nonostante conclude la nota le tante risorse a disposizione e adesso apriamo la pagina degli eventi perché questa mattina nella sede pesarese della Camera di Commercio è stata presentata la quarantesima edizione del cartoceto DOP il festival degustazioni visita ai frantoi mostre concerti mercatini e percorsi verdi da svolgere sia a piedi che in sella alla bicicletta soffia sulle 40 candeline la mostra mercato dell'olio e dell'oliva di cartoceto il borgo antico capofila dell'unica DOP olearia delle Marche che dal 2014 ha scelto di vestire un format festivaliero per celebrare il suo oro verde quest'anno la manifestazione organizzata dal comune e dalla proloco ospiterà nei primi due fine settimana di novembre un percorso articolato tra inogastronomia arte natura e musica oltre a partecipare a laboratori didattici e raggiungere le 14 osterie dislocate nel centro storico a partire da piazza Garibaldi i visitatori potranno incontrare produttori di olio vini conserve e formaggi dedicandosi ad acquisti a chilometri zero è un appuntamento molto importante quello di quest'anno per il compleanno di cui lei parlava prima che è partito lo scorso 17 di settembre e trova il suo momento più importante l'apice durante questi due weekend di novembre cioè il 5 il 6 il 12 il 13 di novembre e quindi è ovvio che rivolgiamo un invito a venirci a trovare a Cartoceto non soltanto per assaggiare per immergersi in questo percorso sensoriale che caratterizzerà il borgo storico marchigiano in questi due weekend ma anche per deliziarsi rispetto a tutte quelle iniziative culturali artistiche musicali e per tutti gli approfondimenti anche che ci saranno da un punto di vista storico artistico appunto in questi due weekend che caratterizzeranno Cartoceto dopo il festival la quarantesima mostra mercato dell'olio e dell'oliva molto atteso a Cartoceto dopo il festival è l'omaggio ad un grande fotografo recentemente scomparso verrà infatti riallestita la mostra intitolata strade di Cartoceto racconti fotografici di Mario Dondero fra gli appuntamenti da non perdere anche i concerti di John De Leo Peppe Servillo Mario Vinuti e la voce Jazz 2016 Emilia Zamuner la prevendita di biglietti è disponibile su ciao tickets punto com Sì il Teatro del Triunfo anche quest'anno è la vera propria culla culturale e artistica della manifestazione sono confermate alcune partnership culturali che abbiamo già instaurato un paio di anni fa con l'Accademia di Belle Arti d'Urbino il Liceo Artistico Mengaroni di Pesero quest'anno avremo inoltre la novità della collaborazione con la Fondazione Rossini di Pesero che ci donerà alcuni partiti e spartiture rossignani in originale che verranno appunto esposte nel Teatro del Triunfo novità per i concerti della domenica inauguriamo quest'anno una rassegna che si chiama Cartoceto Doc Jazz and Wine per i possessori dei biglietti dei concerti sarà possibile degustare prima del concerto anche un calice di vino grazie alla collaborazione con Aish di Pesero e con le cantine del territorio di Cartoceto anche quest'anno la Camera di Commercio non fa mancare il suo sostegno grazie al patrocino Sì addirittura siamo nella sede della Camera di Commercio per la conferenza stampa di presentazione di questa manifestazione perché viene presentato un prodotto che è unico nella nostra regione anche a livello nazionale l'olio DOP di Cartoceto dell'area di Cartoceto perché sono 5 comuni che fanno parte di quest'area è uno dei migliori oli che ci studiano sul territorio nazionale credo che ormai siamo giunti a conclusione di questo ITER e che a breve la regione darà la risposta positiva e io davvero mi auguro che questo possa dare un grosso contributo ai coltivatori e produttori di olio ma soprattutto anche al comune di Cartoceto perché se lo merita fanno un'iniziativa anche il sindaco Rossi sta facendo delle cose importanti con grande impegno e anche con grande intelligenza e questo sicuramente va a favore della collettività e da qual'anno invece è stata inaugurata ieri la 51esima edizione della fiera del tartufo bianco presente alla cerimonia il vice ministro alle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero tra i vari appuntamenti si è svolta la consegna da parte del sindaco Pierotti della Ruscialla d'Oro 2016 al famoso chef Alessandro Borghese domani invece ci sarà una particolare iniziativa dedicata a Gioacchino Rossini celebre compositore pesarese appassionato di tartufi definito principe dei gastronomi Rossini elaborò diversi piatti tra cui i maccheroni al tartufo una ricetta dei primi anni del 1800 che verrà riproposta per la prima volta e fedelmente domani alle ore 17 nella cucina del salotto da gustare e adesso come ogni lunedì apriamo la pagina sportiva e per tutti gli avvenimenti appunto inerenti allo sport ci aggiorna Matteo Del Vecchio grazie Simona e anche questa sera come tutti lunedì andremo a vedere quali sono stati i principali fatti sportivi del weekend fanese ed è quindi d'obbligo partire dal campionato di Lega Pro che ha visto sabato sera scendere in campo al Mancini l'Alma Juventus Fano ed il Parma per l'undicesima giornata oltre 3.000 gli spettatori sugli spalti e coreografia da brividi quella organizzata dai Panthers che per 86 minuti hanno anche cullato il sogno di strappare un punto alla Corazzata Emiliana squadra con trascorsi blasonati ed allestita per tornare presto tra le grandi 1-0 per gli ospiti il risultato finale con gol della vittoria dell'ex Serie A Emanuele Calaiò che a 4 minuti dalla fine insacca di testa un traversone di Corapi una sconfitta del tutto immeritata quella degli uomini di Cusatis che per larghi tratti della gara hanno tenuto testa la formazione di Gigi Apolloni sfiorando anche la via della rete in più di un frangente con Gucci Masini Gualdi e Gabbianelli cambia poco nulla in classifica dopo questa sconfitta dove l'Alma resta al terzultimo posto a più 1 sul Mantova e a più 3 sul Forlì quel Forlì che sabato sera arriverà a Fano per una sfida salvezza assolutamente da vincere e che porterebbe il Fano in acque più tranquille dal calcio passiamo al campionato nazionale di Serie B di Calcio A5 perché sabato c'è stato il derby tra Alma Juventus Fano e Buldo Glucrezia 2-2 punteggio finale e squadre che restano così appaiate a quota 8 in classifica si fa sempre più pericolose invece la situazione dell'Eta Beta che sul campo del Cus Ancona incappa nella quinta sconfitta in altrettante partite 5-1 per i padroni di casa al fischio finale e ultimo posto in coabitazione col Cus Macerata per gli uomini di Mister Bagnesi chi invece continua a guardare tutti dall'alto in basso è il Flaminia calcio A5 femminile che domenica ha centrato il quarto successo consecutivo nel campionato di Serie A 4-0 al Trilacum Trento con gol di Bonito Berti Borgoggelli e Falcioni e primato condiviso con le padovane della Rambla chiudiamo ora la pagina calcistica e facciamo la consueta panoramica sui campionati regionali di Serie C di Volley in campo maschile va alla Montesi Pesaro il derby contro la Virtus Fano 3-2 il risultato finale per gli ospiti abili a rimontare dopo essersi trovati sotto per 2-1 ed è di 3-2 anche il punteggio con il quale l'Apav Lucrezia femminile supera tra le mura amiche l'esino Volley dando così la prima gioia al neo allenatore Alessandro Fammelume e a dare una gioia a tecnico e tifosi è anche il Fano Rugby che domenica dopo solo una settimana è riuscita a riconquistare il primo posto nel campionato di C1 31-15 il tabellino finale nella sfida contro Gubbio emette di Rossolini Canapini Barnesi Gasparini e Sambuchi e primo posto riconquistato grazie anche alla concomitante sconfitta dell'ex capolista San Benedetto sul campo del Gran Sasso e dopo calcio volley e rugby diamo ora spazio a due sport forse meno famosi di altri ma che riescono a far parlare di Fano in giro per l'Italia e nel mondo stiamo parlando di barca a vela e badminton nel primo caso a portare in alto i colori della città della fortuna è stato l'undicenne Leonardo Bonazzelli del club nautico fanese che nei giorni scorsi è stato convocato al raduno della nazionale italiana Optimist categoria riservata ad atleti under 14 tre giorni intensi per Bonazzelli che da anni conquista risultati prestigiosi in tutta la penisola chi invece da tempo fa parlare di sé anche al di fuori dei confini italiani è Matteo Bellucci vice campione nazionale in carica e vincitore nei giorni scorsi del Santo Domingo Open torneo internazionale di badminton che ha visto la partecipazione di atleti di tutto il mondo Bellucci ha vinto la medaglia d'oro nel singolo e quella di bronzo nel doppio in coppia con Fabio Caponio grazie ai punti conquistati in questo torneo Bellucci risale circa 50 posizioni nel ranking posizionandosi tra i primi 300 atleti al mondo complimenti dunque a Bonazzelli e Bellucci e con queste due notizie si chiude la pagina sportiva di questa sera l'appuntamento come sempre con lo sport la città di Fano ed intorni è a lunedì prossimo buona serata grazie a Matteo Del Vecchio per la pagina sportiva il nostro telegiornale termina qui domani in vista della ricorrenza di ogni Santi non andremo in onda le informazioni dunque tornerà mercoledì mattina in diretta con la rassegna stampa delle 7.30 e poi alla sera alle 20.30 con occhio alla notizia grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti